Tu che hai sempre sognato di avere un'autovettura che non consumi niente, che vada ad aria, o un'autovettura elettrica che non ci sarebbe mai bisogno di caricarla, è una fantasia! Beh ragazzi, non si sa, dicono che una nuova start-up californiana, da qua a 5 anni, anzi addirittura ha già creato il brevetto e deve poi metterla sul mercato, hanno creato una batteria nucleare, ma non ti spaventare, questa batteria nucleare è veramente innocua, perché? Come la costruiscono? Vanno a prendere scorie nucleari, che noi ne abbiamo in abbondanza in tutto il mondo, piuttosto che buttarle queste scorie nucleari, che cosa fanno? Prendono in particolare la grafite, la grafite creano dei nanodiamanti e riescono a creare una batteria che può durare fino a 28.000 anni senza aver bisogno di caricarla mai! Cioè ragazzi, è fantasia, qua arriviamo veramente nella fantascienza! Queste batterie poi verranno rivestite da diamanti artificiali per avere una schermatura dalla radioattività. Per adesso diciamo che le tensioni sono abbastanza basse, ma le stanno veramente sviluppando, se riescono a svilupparli in modo molto pesante, riusciamo poi a posizionarle su autovetture elettriche. Ragazzi, immaginate un'autovettura elettrica che monta una batteria di quella lì, sicuramente i prezzi saranno molto alti, ma non ci sarà mai più bisogno di caricarla o rifare il fornimento, Cioè ragazzi, veramente, come dicevo, è fantascienza! Se questa azienda californiana riesce veramente a farli, farli credere anche a me! Perché anche io sull'elettrico non ci ho mai creduto, sul full electric non ci ho mai creduto, perché non siamo ancora pronti per avere tante colonnine e oltretutto i viaggi lunghi fa veramente fatica a farli, perché se ogni volta mi devo fermare per fare una ricarica sarebbe veramente fastidioso. Ma avere una macchina che non c'è mai più bisogno di fare il fornimento o caricarla, ragazzi, è veramente fantascienza! Tanto di cappello! Se riescono a svilupparla, alziamo le mani! Ciao ragazzi, alla prossima!